nel nome del brenda o se volete nei piedi di moreira dopo il mese di box causa covid la polisportiva riparte e lo fa sospinta dalla sua brasiliana stella e pure goliador blitz dunque 3 a 0 in casa del taranto di vito liottino raccontarla però non è semplice perché il taranto non è mai stato domo seppur non ha creato nessun s os a tempesta e compagne la partita si è divisa in due fasi il primo tempo dove le gambe hanno fatto fatica iniziale a entrare in confidenza e non è mancata pur un po di ruggine nel costruire gioco soprattutto a incipiti di partita ciò nonostante le leoncelle hanno segnato la prima con moreira con schema di punizione con gressa fontela e poi con la spagnola ultima arrivata al badiaz brava a depositare in saccoccia un triangolo proprio con moreira per il resto tiri da fuori e poco più il secondo tempo non ha avuto storia perché il bitonto ha messo sul parche ionico una qualità troppo alta per le avversarie accompagnata però da poca furbizia e cattiveria davanti al portiere avversario comunque sempre pronto e attento tanto è vero che il tris è arrivato a fine di tutto e a siglarlo ovviamente è stata lei brenda moreira che sale a quota 11 gol realizzati in quattro partite il bitonto invece di punti in a 10 resta sempre in altissima quota seppur con tre gari in meno lo spettacolo dunque continua